Si è svolta sabato 24 novembre al Teatro Astri San Giovanni Lupatotto la presentazione del libro 100 anni da lupi che ripercorre 100 anni di storia dell'associazione calcio San Giovanni Lupatotto. È stata una serata molto bella, molto ben curata ed organizzata in tutti i dettagli dallo sponsor Fineco Banca. Sul palco sono saliti tutti i giocatori della prima squadra lupatottina, vecchie glorie del passato ed i presidenti che si sono succeduti negli ultimi 30 anni. Gli autori del libro Franco Lerini e Cristian Canazza hanno pubblicato centinaia di interviste e fotografie ai protagonisti di un secolo di calcio. Una parte del libro è dedicata all'attuale settore giovanile del San Giovanni con foto di tutti i ragazzi. Non potevano mancare le premiazioni di personaggi che hanno scritto la storia di questa società. Alla fine un lauto rinfresco e un'estrazione a sorteggio di premi ha fatto da contorno alla splendida serata.